Gli spettacoli al Teatro Torbella Monaca di Roma toccano registri civili, storici, comici e musicali. Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile è andato in scena lo spettacolo Apologia di Socrate, come riferita dal testimone Platone. La compagnia Mauri Sturno, la scuola del teatro, impianta uno spettacolo intento a far conoscere il pensiero del filosofo greco. Adriana Romano adatte e guida Maurizio Castè e Paolo Benvenuto Vezzoso alla regia. Una rappresentazione indispensabile per far comprendere in maniera nitida e vivissima il pensiero del primo grande filosofo e martire della libertà di pensiero occidentale. All'epoca del processo Socrate aveva 70 anni e la sua vita si era intrecciata con quella dell'intera democrazia atenese. Il suo insegnamento, la sua ricerca del vero, era stato presente in tutti i problemi che riguardano l'onestà intellettuale e la sovranità della legge nella società democratica. Attraverso la vita di Socrate è possibile dunque tracciare un'anamnesi viva, originale e palpitante, della città di Atene del V secolo a.C. Dal 17 al 23 aprile il cartellone dimostra come sul palco possano essere rappresentati argomenti che ci insegnano a guardare il mondo sotto molti punti di vista. Atene del V secolo a.C.